Insieme ai bombardamenti si intensifica anche il flusso di profughi ucraini verso l'Europa. Ieri i ministri dell'interno dell'Unione hanno siglato un accordo per accogliere e assistere chi fugge dalla guerra. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio. Trovato l'accordo tra i 27 Paesi membri, l'Unione Europea accoglie i profughi ucraini che fuggono dalle bombe di Putin. La direttiva per la protezione temporanea è stata approvata all'unanimità dai ministri dell'interno dell'Unione. Lo status di protezione temporanea prevede un permesso di soggiorno della durata di un anno, estendibile a due a tutti i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra. Diritto all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria si prevedono 7-8 milioni di profughi. È stato un consiglio affari interni un po' complicato perché c'era il freno di alcuni Paesi, tra cui Austria, Polonia, Slovacchia e Ungheria, contrarie all'applicazione della direttiva per chi non è cittadino ucraino. Verrà consentito la protezione temporanea agli ucraini e anche ai soggetti non ucraini che risiedono in quel territorio con la possibilità per questi ultimi di avere anche un altro tipo di protezione, quello stabilito a livello nazionale, purché in linea con le norme di carattere generale europee.